Giampiero, chef pescarese, era andato a prendere nella sua automobile un analgesico per la moglie. È in quel momento che ha visto la Slavina ricoprire l'hotel Rigopiano. Si è salvato così, mentre la sua Adriana, con i bambini di 8 e 6 anni, risultano dispersi. Nessuna notizia, anche di un'altra famiglia. Domenico, poliziotto in servizio ad Osimo, sua moglie Marina e il loro bambino, anche lui di 6 anni. C'erano anche Valentina e Giampaolo, romani. Hanno una bimba di 5 anni, ma per fortuna l'avevano lasciata dai nonni. Silvana e il marito Luciano, parrucchieri chietini, dovevano invece lasciare l'hotel martedì, ma avevano rinviato la partenza al giorno successivo a causa del maltempo. Marco, della provincia di Ascoli Piceno, era lì con la sua compagna Paola, così come un altro Marco, maceratese, pilota Ryanair, con la sua fidanzata Jessica. Era stato un regalo, invece, a portare fin lì, sotto il gran sasso, Claudio, di Atri e la moglie Sara. Giorgia e Vincenzo, lei studentessa, lui titolare di una pizzeria Giulianova. Stefano, originario di Salerno, era in hotel per festeggiare il compleanno con la fidanzata Francesca. Ci sono poi i dipendenti dell'albergo, Laura di Bisenti, Teramo, Emanuele di Pioraco, Macerata. Cecilia, di Atri, è l'estetista dell'albergo. Ilaria, della Val di Sangro, la cuoca. Alessandro, il receptionist. È stato assunto appena un anno fa. Infine Roberto, l'architetto proprietario dell'hotel. Sono questi i volti e le storie di coloro per i quali i soccorritori si stanno adoperando senza sosta, per rivederne vivi quanti più possibili.